Vittorio Bertola, capogruppo Movimento 5 Stelle. Questa è una città che ha grandi energie, grandi prospettive, grandi potenzialità, però non riesce tanto a tirarle fuori perché comunque è una città tappata. È una città dove c'è un gruppo ristretto di persone, pochi salotti che alla fine si spartiscono tutto quello che c'è da fare. E per chi non ha le connessioni giuste con questo giro di persone, diventa molto difficile avere le opportunità qui ed è costretto a emigrare che sia a Milano, che sia all'estero, però a cercare fortuna da altre parti. Allora quello che noi vorremmo fare è veramente stappare l'energia di questa città, fare in modo che possano essere messe al servizio della crescita, di riportare sviluppo, posti di lavoro, ma anche semplicemente una qualità della vita migliore, una maggiore efficienza dei servizi e in generale tutto quello che serve per vivere tutti un po' meglio, poter rimanere qui, non andare a dover lavorare da un'altra parte e poter vivere felicemente nella nostra città.